Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Iniziamo una nuova serie di video tutorial dedicata ai software utili per chi lavora con immagini e suoni e in generale per chiunque lavori con materiale multimediale. Oggi parleremo di Media Info, un software gratuito, quindi non dovete pagare nulla per utilizzarlo, che è utile perché ci permette di avere molte informazioni curiose e soprattutto indispensabili sui file multimediali con cui stiamo lavorando. Per esempio, se avete un clip video e volete sapere la risoluzione, il bitrate, il framerate, il codec utilizzato per encodare il file stesso, la dimensione del file, la data di creazione, la profondità in bit, lo spazio colore, eccetera, eccetera. Ecco, questo software gratuito ci dà tutte queste informazioni. Per scaricare Media Info basta andare su questo sito internet, non vi preoccupate di copiarlo, metto il link nella descrizione. Ripeto e ribadisco, è gratuito, quindi non dovete pagare nulla. Cliccate su scaricalo, scegliete chiaramente il vostro sistema operativo di riferimento, probabilmente Windows, probabilmente Mac, se utilizzate un sistema appunto Mac. C'è anche, credo, per Linux, se utilizzate un sistema operativo di questa tipologia. Lo scaricate, lo installate in maniera molto semplice e veloce e lo lanciate. Media Info è un software molto minimale, ok? Non è un software complicato da utilizzare, molto semplice a dire la verità. E come dicevo prima ci permette di estrapolare informazioni da un file multimediale. Per esempio, io qui ho una clip video, nello specifico il teaser di Anomalie l'Italia occulta. Se non sapete cos'è Anomalie l'Italia occulta www.anomalie l'Italia occulta.it e avrete tutte le informazioni su questa serie dedicata al ghost hunting. Dicevo, vogliamo avere un po' di informazioni su questo file? Prendo questo file, clicco con il tasto sinistro del mouse e lo trascino dentro a Media Info. Bene, apparentemente non ho molte informazioni, perlomeno non grandissime informazioni apparentemente, perché ho chiaramente la data di codifica, scopro che ha una traccia video, ha una traccia audio e poche altre informazioni. Quindi voi direte, vabbè, ho capito, non è che poi vedi la info sia così indispensabile. E invece no. No, perché se cliccate sul bottoncino visualizza potete scegliere una modalità di visualizzazione dei dati diversa da quella semplice, appunto. Per esempio, clicchiamo su HTML, ok? Vedete che già le informazioni sono molte, molte di più. Intanto abbiamo un riassunto delle caratteristiche principali di questo file multimediale. Quindi abbiamo il nome completo, quindi la path in cui è stato salvato il file, il formato, il profilo del formato, abbiamo anche la durata, ovviamente, il bitrate generale di tutto il file, quindi sia audio sia video che si aggira intorno ai 31.1 megabit al secondo. Abbiamo anche la data di codifica e direi nulla più. Se scendete però iniziamo ad avere molte informazioni in più sul video. Per esempio scopriamo il codec, un advanced video codec. Abbiamo, per chi ne capisce qualcosa, ed è più smanettone il profilo del formato, l'impostazione del formato, l'ID del codec, eccetera, eccetera. Ma, per chi magari vuole avere informazioni un po' più concrete, possiamo scoprire, per esempio, il bitrate con cui è stato codificato questo video, circa 30.9 megabit al secondo. Informazione importantissima, la risoluzione, quindi la larghezza e l'altezza del fotogramma, 1920x1080, la risoluzione, l'aspect ratio, quindi il rapporto, 16.9. Scopriamo che il frame rate è costante a 25 fotogrammi al secondo. Scopriamo che lo spazio colore è, diciamo, o meglio, la profondità dei bit è 8 bit, quindi con uno spazio colore che lavora in 4, 2, 0. Scopriamo chiaramente che questo è un video progressivo, la lingua inglese, ma questo chiaramente non fa per forza fede, ok? Questo dipende dai metadati utilizzati per codificare questo file multimediale. La data di codifica, ovviamente, e altre informazioni utili, lo ripeto, per chi è particolarmente curioso o ha particolari esigenze di andare nel dettaglio. Questo per quanto riguarda il video, ma se scendiamo sotto abbiamo anche altre informazioni che riguardano invece la traccia audio. Per esempio, scopriamo che questa traccia audio è una traccia audio. Intanto c'è una sola traccia audio, perché se ne avessimo avuto più di una avremmo avuto chiaramente altre informazioni con altre tracce audio. Questa traccia audio che compone questo video ha due canali, quindi molto probabilmente, anzi sicuramente, è un audio stereo. Infatti vedete che il layout dei canali audio sono left and right, sinistra e destra. Scopriamo che la frequenza di campionamento è 48 KHz. La velocità, questo è importante, il bitrate di codifica del file audio è a 192 Kbps ed è variabile. Quindi diciamo che questo questo video ha un audio compresso in maniera variabile tra 192 Kbps e 287 Kbps. Quanto detto fin qui, abbiamo visto che è valido per un video, ma se io per esempio avessi un file audio il ragionamento è lo stesso. Trascino il file audio dentro a media info e scelgo una modalità di visualizzazione. Per esempio, ancora questa volta andiamo per esempio in testo. Ecco, un po' più scomodo per esempio il testo rispetto all'HTML. Ecco, però anche qui scopro che questo file audio ha per esempio due canali, quindi anche questo è un file stereo. Scopro anche il codec che è stato utilizzato per codificare questo questo file audio e ovviamente non troverò alcune informazioni relativa alla traccia video, perché essendo un MP3 è un file che ha soltanto informazioni audio. In generale media info mi permette di estrapolare tutte le informazioni disponibili in un file multimediale. Posso anche esportare queste informazioni, per esempio, se ho la necessità di condividere questi dati con qualcuno e ho molti formati tra cui scegliere. Posso esportare queste informazioni come testo, come HTML, come XML, come JSON, eccetera, eccetera. È un software molto semplice e intuitivo, soprattutto è gratuito, indispensabile per chiunque lavori nel meraviglioso mondo dell'audiovisivo, quindi utilizzatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Per il momento ci fermiamo, condividete questa clip con i vostri amici, iscrivetevi a questo canale YouTube, cercatemi su Facebook e anche su Instagram e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!